ciao a tutti sono famiglia e oggi prepariamo insieme il pane intrecciato a quattro un pane brioche realizzato con un impasto di farina, lievito di birra, l'acqua, latte, uova, sale, buro, poco zucchero. Vediamo gli ingredienti che ci servono. Iniziamo con il levitino, aggiungiamo 2-3 cucchiai di farina, un po' alla volta, la copriamo con la pellicola e lasciamo ripetare fino al raddoppio. Quando vediamo le bollicine che si formano, poi aggiungiamo la farina poco alla volta, un uomo, il latte, mezzo cucchiaio di sale, il burro sciolto, mescoliamo bene tutto. Aggiungiamo la farina poco alla volta, aggiungiamo la farina e mescoliamo bene 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 e poi lavoriamo tutto sul piano di lavoro, aggiungiamo anche un po' di olio, aggiungiamo ancora la farina e adesso lavoriamo tutto con le mani o con l'impastatrice. Ora impastiamo a mano o con l'impastatrice, aggiungiamo l'olio e impastiamo ancora. Dobbiamo ottenere un impasto liscio, corposo, che non si attacca alle mani. Poi formiamo una pala rotondata e la lasciamo lievitare fino al raddoppio del volume. Lo copriamo con la pellicola. Una volta depitato mettiamo l'impasto sul piano di lavoro, lo allunghiamo con le mani, e lo pieghiamo su se stesso. Una volta arrotolato l'impasto lo dividiamo in quattro pezzi e lo stendiamo con un mattore a luce ogni pezzo e poi lo rotoliamo con le mani e lo pievette con le mani e lo stendia e lo stendia e lo stendia Grazie a tutti. 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 E inforniamo un porno riscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti. Lo sforniamo e lo lasciamo raffreddare sulla gratta. Buon appetito! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.